Parliamo anche con il capitano Mario Scetti, magari con Mario tocchiamo subito il tasto dolente di questa gara e il primo gol subito, quello che l'ha un po' cambiata, un altro errore difensivo? Ma cambiata la partita no, perché comunque siamo andati avanti a giocare, secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo creato anche oggi moltissimo, perché comunque abbiamo avuto due o tre palloni per cercare di pareggiare la partita e vabbè è un momento così, io personalmente sono sereno perché sì è vero abbiamo un punto, però creiamo tantissimo e come ti ripeto io vedo il lato positivo che è questo, cioè il continuare su questa strada qua, ci sta girando così, creiamo tanto, non la buttiamo dentro, poi veniamo puniti su errori nostri, oggi loro hanno fatto due tiri in porta, tre se vogliamo vedere quello del palo, è così, domenica c'è un'altra partita e si va avanti. Forse questa è la forza del Piacenza, insomma, che concretizza molto, proprio al contrario del Pergo. Sì, loro sono una buonissima squadra, perché comunque è una squadra molto quadrata che quello che crea poi concretizza, però ti dico anche noi venire qua a fare una partita così, che secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, c'è da vedere comunque, c'è da lavorare tanto, perché ogni tanto facciamo qualche errore che poi paghiamo come gol, però c'è anche tanto di buono. Domenica col Ciserano sarà già una partita cruciale o è presto? Ma io ti dico cruciale, è presto, è una partita che però, dove devi continuare a dimostrare quello che hai dimostrato fino adesso, cioè di creare tanto, cercare di limare gli errori che poi portano a subire questi gol, però già domenica dobbiamo far vedere che dobbiamo raccogliere qualche punto in più.